Buongiorno e benvenuti alla nostra consueta rassegna stampa del mattino, sono le 7, siamo in diretta, il buongiorno vi giunge da tutta la redazione, a voi che ci seguite con tanto affetto ogni giorno, ogni mattina, soprattutto in diretta con l'edizione appunto che comincia alle 7 puntuale. E allora come di consueto vediamo il santo del giorno, oggi la chiesa cattolica ricorda Santa Eulalia di Barcellona, il sole sorgerà alle 7.20 e tramonterà alle 17.24 minuti in attesa della perturbazione di San Valentino che è in arrivo con vento e temporali fuori stagione, anomalia Italia, venti forti, oltre 20 gradi e c'è anche purtroppo una vittima per quanto riguarda il maltempo. Questo è trebimeteo.com con le notizie che riguardano l'Italia, ma nelle Marche invece il bollettino della protezione civile delle Marche prevede per oggi cielo sereno, poco nuvoloso, con pochi venti rispetto ai venti di tempesta dei giorni scorsi, soltanto un po' di brezza leggera. Non c'è altro da segnalare per la giornata di oggi, mentre per domani c'è un calo delle temperature minime, soprattutto la notte con le massime invece senza variazioni di rilievo, minime in discesa che porteranno dunque attenzione a delle gelate e soprattutto nei fondo valle. Per il resto un po' di aumento della nuvolosità domani nel corso del pomeriggio, a partire dai settori interni, poi in estensione verso la fascia costiera. Ma è nella giornata di venerdì 14, dicevamo, la giornata di San Valentino, che registra una marcata variabilità con precipitazioni soprattutto al mattino diffuse nella parte interna della regione, poi queste piogge diventeranno più abbondanti sui versanti occidentali e locali lungo la fascia costiera. Localmente i fenomeni saranno anche a carattere di rovescio, fenomeni che si esauriranno nelle ore centrali della giornata. Avremo dei venti che soffieranno anche lungo la fascia costiera, saranno moderati e ruoteranno dal quadrante settentrionale. Ecco dunque la giornata di venerdì sulle Marche, poi il fine settimana tornerà ad essere caratterizzato dal tempo buono. Resto qua. Allora Matteo Ricci, anticraxiano da sempre, che decide di intitolare una via a Bettino Craxi nella sua Pesaro, generando non pochi malumori anche all'interno del suo stesso partito, ovvero il Partito Democratico. Malumori si registrano anche a Fano invece, dove all'interno dell'ente carnevalesca, insomma, tira un po' di aria tesa, ma soprattutto nei capannoni dei carri, dove le dichiarazioni, le cose che si sono sentite in questi ultimi giorni a proposito del debutto dei carri del carnevale, insomma, stanno facendo venire qualche mal di pancia ai maestri carristi. È onore del vero, diciamo, lavorano e hanno lavorato tanto in questi mesi per portare comunque i loro carri a sfilare nel carnevale di Fano. E di questo si parla sui giornali questa mattina. Ma c'è anche la cronaca, andiamo a vedere la fotonotizia dal Corriere Adriatico, l'edizione di Peso Urbino, che appunto in apertura pubblica la foto di questa fiamma, di queste fiamme alte che hanno in vaso oltre 30, hanno bruciato oltre 30 ettari di vegetazione. Le forti rafiche di vento hanno favorito l'incendo al Monte della Matera, siamo in provincia di Peso Urbino, e in tutta la provincia sono stati più di 100 gli interventi dei Vigili del Fuoco, interventi che si riferiscono in particolare al forte vento di tempesta che ha soffiato anche nella giornata di ieri. Ma l'apertura è per la via intitolata Bettino Craxi, l'omaggio di Ricci ai socialisti, all'annuncio una valanga di commenti contrari, ma lui si gode, come sempre, la vetrina. E sotto, sperpera i soldi alle slot machine, si inventa una rapina, un trentenne che è stato denunciato dai carabinieri ed è accusato di simulazione di reato. Il resto del cardino anche qui apre con una via a Craxi, Ricci lancia l'intitolazione all'ex leader socialista, ma è scontro. Morbidelli, oggi l'ultimo applauso al genio delle motociclette, oggi nella chiesa del Porto il funerale dell'uomo diventato leggenda, un personaggio irripetibile. Accogli al metauro, vanno a fuoco otto ettari di bosco, paura per i ripetitori, mentre è stato denunciato un uomo che ha perso soldi alle slot e si inventa dunque una rapina. All'interno Bibi Cecchini, la proprietaria del presunto quadro attribuito a Leonardo, sconta la condanna alla Caritas, mentre sotto di taglio basso sfida Salvini Sardine, arriva Mattia Santori, leader, colui che insieme ad altri compagni si è inventato questa cosa delle 6.000 Sardine e poi Ceriscioli e dunque verso le primarie o meglio verso le regionali, Ceriscioli primarie o addio Acquaroli in bilico. Il centro-sinistra e il centro-destra stanno facendo le loro mosse appunto in vista di questa tornata elettorale. Mentre sul Corriere Adriatico a pagina 2 subito la cronaca sul maltempo, raffiche fino a 130 all'ora e il Fön piega il Pesarese, oltre, il Fön è un vento caldo, il Garbino insomma, oltre 100 gli interventi per i vigili del fuoco allertati per le criticità più disparate, soprattutto alberi pericolanti. Poi in Piazza del Popolo cedono calcinacci da Palazzo Baviera, a Urbino si controllerà invece oggi il tetto del Palazzo Ducale. L'assessore Belloni chiarisce, si tratta di un edificio privato e il Comune non c'entra nulla con la sua manutenzione. Il Cagliese, flagellato dal vento, scuole chiuse a frontone, Serra Sant'Abbondio va in tilt, un trasformatore dell'Enel. Mentre sempre a Urbino, squarciato il pallone di Scienze Motorie in via dell'Annunziata. L'altra notte le raffiche erano davvero potentissime, il telo di questo pallone che serve da palestra per il basket e altri sport non ha retto e si è accasciato a terra. Mentre qua nelle fotografie vedete le immagini di Cagli e con la gru, il cestello per mettere a posto e sistemare alcune tegole pericolanti. Monte della Matera a fuoco sono bruciati, più di 30 ettari, l'incendio è cominciato nella notte ed è stato domato solo nel tardo pomeriggio. Otto anni fa, pensate, eravamo qui a parlare del nevone, dei danni provocati dalla nevicata storica che tutti quanti ricorderete. Ieri invece all'ora di pranzo, quindi otto anni dopo, si sono sfiorati i 20 gradi. Un albero si abbatte su un distributore invece a Fermignano, per fortuna niente feriti ma soltanto dei danni al tetto della stazione di servizio. Bruciano otto ettari di bosco, questo è il Carlino, paura per i ripetitori. Colle al Metauro, l'incendio è divampato a Monte Matera, vicino a Fonte Corniale, su un'area di 300 mila metri. Si sospetta un'origine dolosa e quindi per questo indagano i carabinieri forestali. Alla Chiesa del Porto invece oggi l'addio a Giancarlo Morbidelli, alle 15 funerali al genio dei motori, il corpo racremato al cimitero di Fenile, i ricordi di Marco Benelli, Minardi, Bianchi e Battisti. Era un grande e sono venuto a Pesaro tante volte a trovarlo, dice Pierpaolo Bianchi. Fu anche tra i fondatori del Motoclub Benelli. Non potevamo mancare di far sentire, non potevano mancare di far sentire la loro voce, il cordoglio in occasione di questa scomparsa e quindi oggi alle 3, come abbiamo detto, ci sarà questo funerale. Alla figura di Morbidelli è ispirata la nostra terra di piloti dei motori. Da Biancani a Ucchielli prosegue l'omaggio al geniale imprenditore a cui oggi sarà dato appunto l'addio. Questa è la cronaca da Valefoglie invece. Sperpera 900 euro alle macchinette, alle slot machine e tutto questo lo fa in poche ore. Poi, probabilmente si è reso conto di quello che aveva combinato, finge un'aggressione e anche una rapina che però viene scoperta e quindi è stato denunciato. È un trentenne che è stato incastrato dai carabinieri, l'accusa è ora di simulazione di reato, soffriva da tempo di ludopatia. E poi sul festival di Valefoglie, il festival dell'amore, c'è Gianluca Murgia che questa mattina sulle colonne del Corriere Adriatico scrive a proposito dell'iniziativa di Palmiro Ucchielli, il sindaco di Valefoglia, che ha scritto a Greta Thunberg, l'attivista svedese, la ragazzina di 17 anni, invitandola appunto al festival dell'amore. Poi ha scritto a Liliana Segre, poi ha scritto a David Sassol, il presidente del Parlamento europeo. Tutta gente che va benissimo, però dice e scrive, lancia una proposta, il collega Murgia, e dice se si decide di organizzare un festival dell'amore, che lo ricordiamo il 14, 15, 16 febbraio alle 100 vetrine, c'è una persona che andrebbe invitata per il suo amore potente nei confronti della vita e questo è Ivan Cottini. La sua performance a Sanremo è stata un condessato di emozione, forza, sensibilità e amore, che tra l'altro è ricambiato. 75% di Sher alle 2 di notte è davvero amore. Schianto il seggiolino, e questa è una notizia che arriva da Polverigi, siamo vicino ad Ancona, il seggiolino si stacca, gravissimo, un bambino di 5 anni, la mamma è stata operata, Torrette, indagata una donna che avrebbe provocato l'incidente. Ecco la scena del terribile frontale che è avvenuto ieri appunto a Polverigi. Un corriere si inventa una rapina, gioca 900 euro alle slot e questo invece è il resto del carlino. I carabinieri scoprono tutto e lo denunciano per simulazione di reato. Aveva già fatto lo stesso trucchetto qualche mese fa ed è un ludopatico. La storia di questo, anche qui, è una storia che arriva dalle cronache marchigiane del Corriere Adriatico, un arbitro che a fine partita dà una testata ad un giocatore, il giocatore cade a terra e questa volta il daspo di un anno è proprio all'arbitro. Il daspo significa che non può avvicinarsi agli stadi, non può più fare nulla dove ci sia un po' di erba verde con delle righe bianche a terra. Il direttore di gara dunque deve stare fuori dagli stadi. Il progetto, e qui apriamo la pagina di Fano, del Corriere Adriatico, il progetto per un nuovo dragaggio, fanghi utilizzati come ripascimento. Fanesi anticipa alcuni interventi, compreso l'apporto di scogli dalla diga foranea, ci vuole però un milione di euro. Domani c'è un incontro con le marinerie marchigiane sulla manutenzione dei porti. Servizi a domanda individuale, cosa aumenta? Ritocchi all'insù per trasporti e utilizzo di strutture pubbliche. La rivolta delle partite IVA si impenna, senza risposte sarà sciopero fiscale dopo l'incontro di lunedì a Fano e la volta di Senigallia, Ancona, Macerata e Fermo. Basta lamentarsi, ora serve l'azione. Dunque la rivolta delle partite IVA punta ad espandersi in tutte le marche, al ritmo di un'assemblea alla settimana, ogni lunedì in una città diversa. La seconda tappa di questa marcia è stata a Fano, in un noto ristorante della zona del Porto, dove l'altro ieri sera si è riunito oltre un centinaio di persone, fra lavoratori autonomi e liberi professionisti. Si sentono vessati dalla tassazione applicata dallo Stato ed ora si organizzano per fare massa comune e dare maggior peso alle loro richieste. E noi continuiamo a dire bravi, andate avanti. L'obiettivo è scardinare il sistema Stato-Banche che ci penalizza da sempre. E poi sotto è stato smantellato il Luna Park al Pincio, chi l'ha fatto non si sa, è stato sgomberato ieri questo piccolo Luna Park all'interno del Pincio, dietro decisione di chi ancora nessuno si è saputo, insomma nessuno sa chi ha assunto la paternità nonostante sia stata una decisione bersaglio di censure trasversali. Molte voci hanno infatti sottolineato come recente recupero del Pincio non meritasse di essere deturpato dalla installazione di questo Luna Park. E poi sempre a Fano la palestra della trave contestata, dimenticati tribune e spogliatoi, tornano alla carica 5 stelle, ma quei lavori sono nel secondo stralcio. Dicono cultura ed eventi e patrimoni storici. Così la città di Fano fa le prove da capitale. Il sindaco Seri e Lucarelli tienne l'assessore sono a Milano per promuovere alla Borsa Internazionale del Turismo la città di Fano e sostenere al Ministero la sua candidatura. Grande curiosità per Passaggi Festival, per Fano un Fortuni, Gets e il Brodetto. Poi di fianco invece questo gruppo di persone volenterose che si mettono a disposizione per ripulire la città dai rifiuti. Puliamo, mette la maschera raccolta sulle tracce del Carnevale, valanga di mozziconi, ma anche vetro e lattine. Il Carlino di Fano invece apre con le materne, un ribaltone del Tar, labirinto a mani vuote. La seconda classificata contesta la domanda presentata dalla Coppa Pesarese e dai soci e vince. Trenta maestre di sostegno in ballo. Pincio addio a Luna Park, i giostrai si mobilitano, i giostrai smobilitano, scusate, revocate le autorizzazioni dopo le polemiche. Lucarelli dice aspettiamo invece l'autorizzazione per lo spostamento in via Corridoni. Poca satira, i carristi si difendono. Continua il dibattito dopo le parole di Mauro Chiappa che aveva contestato le scelte della Commissione. E Cartoceto però piange. L'ex sindaca Olga Valeria aveva 55 anni, si è spenta ieri dopo una lunga battaglia contro un brutto male. Olga Valeria, sindaco del Comune di Cartoceto, dall'8 giugno del 2009 al 25 maggio del 2014. Alla guida della lista insieme ottenne alle amministrative di 11 anni fa il 36% di voti, avendo la meglio su Francesco Baldarelli e su altri concorrenti. Tra l'altro c'era anche un giovanissimo Enrico Rossi che invece adesso è diventato sindaco. Lascia il marito Giuliano e le figlie Daphne e Priscilla. E questa è la notizia che troverete sul resto del carino, ma anche sul Corriere Adriatico di oggi. E poi ancora dal Tribunale di Pesaro picchiò cliente facendogli perdere un occhio. Barista patteggia due anni e 70 mila euro di multa. Due anni ha un 38enne barista fanese, gestore di un locale nel centro storico, che a febbraio del 2018 ha aggredito un avventore a suo dire reo di essere stato troppo rumoroso. Lesioni, il resto contestato. La vittima, un 38enne, anche lui fanese, dipendente delle ferrovie dello Stato, ha ottenuto un risarcimento danni di 70 mila euro. Io cacciata dal bed and breakfast cerco solo un po' di aiuto. Parla la protagonista della lite furiosa avvenuta lunedì nella struttura da cui non voleva andarsene. Lei dice e racconta sono incinta, sono da sola, abbandonata dal padre di mio figlio, lui mi ha detto solo bugie, i miei genitori li ho persi, ora cerco un alloggio a prezzi ragionevoli. Nuovo impianto sportivo nella zona della trave, ok al progetto esecutivo e tornano le polemiche. I Cinque Stelle accusano l'amministrazione, non sono stati previsti i parcheggi, i residenti continueranno ad essere invasi dalle auto dei frequentatori della palestra. Andiamo di nuovo sulle Marche per la grande sforbiciata di onorevoli e senatori. Le Marche avranno nove rappresentanti in meno. Il 29 marzo c'è un referendum per il taglio dei parlamentari, si passerebbe da 24 a 15 rappresentanti del territorio. Mentre sull'altra pagina del Corriere Adriatico, sempre in vista delle regionali, c'è questa intervista di Federico Talè di Italia Italia Viva e dice Ceriscioli ce l'ha detto, mai la Mancinelli candidata, il governatore non farà un passo indietro per lei. Federico Talè dice ancora la destra questa volta è forte e per avere probabilità di vittoria dobbiamo essere tutti quanti uniti e bisogna scegliere un candidato molto forte che per me dovrebbe venire dal PD dato che è il partito di maggioranza relativa. Il PD di quella persona forte ce l'ha ed è appunto Valeria Mancinelli. Valeria Mancinelli che come ben sapete è attualmente sindaco di Ancona. Da Urbino, Avis numeri pazienza da record nel 2019 con 1.063 donazioni. L'associazione ha fatto registrare un incremento del 23% rispetto all'anno prima. Nonostante la carenza di operatori nel centro trasfusionale crescono anche i volontari. 57 quelli nuovi e 534 quelli attivi. E poi di taglio basso, qui sotto ancora la cronaca, si finge figlia di Di Pietro per truffare ed è stata condannata. La sentenza a sorpresa per la donna due anni e sei mesi, più di 1.200 euro di multa. La Pian Severo, sempre da Urbino, osservata speciale. I lavori di ristrutturazione della scuola sono iniziati ma sembrano fermi. Il motivo? Si analizzano i materiali. Non c'è certezza per quanto riguarda il rischio amianto che sia assente e per questo si fanno prelievi a campione. I lavori finiranno ad agosto, la massima deroga per chiudere il cantiere è nel mese estivo e non oltre a settembre. L'ospedale non finirà al privato, siamo su Fossombrone. Traversini rilancia i 20 posti letto. Il fantasma della lunga degenza legge da anni ma il consigliere regionale ci crede. E dunque il provvedimento è compito della giunta. Lo stesso presidente Ceriscioli ha preso impegni in questo senso. Di gestore il confronto arriva in provincia. Ha convocato per oggi il primo tavolo tecnico. Masseri accelera l'iter. Dunque il sindaco di Fano ha aggiunto un ordine del giorno con priorità nel dibattito consigliare di domani proprio relativo alla mozione di indirizzo ad Aset Spa per l'elaborazione del progetto di fattibilità dell'impianto di digestione anaerobica nel territorio dei comuni di Fano e sulla delicata questione interviene anche il sindaco Mirko Zenobi che dice abbiamo appreso dalla stampa e poi dalla provincia del progetto che sembra spuntato da nulla all'improvviso. Siamo rimasti sorpresi. Per mese abbiamo assistito al dibattito che ha interessato la città di Fano riguardo al digestore che dovrebbe realizzare Aset e invece ora esce un privato che propone un impianto nell'entroterra a ridosso di Mondavio. Zenobi poi dice noi siamo per la gestione pubblica di questi impianti e poi non condividiamo affatto che si sceglia un'area vicino ad una ex discarica che è stata chiusa ben 25 anni fa. Dunque la vedo dura che si possa realizzare a Barchi e quindi se la politica spinge per Fano vedrete che andrà così. Ma comunque ristrutturare l'ex cinema adriatico, questa è la pagina di Mondolfo, sarebbe bello ma ci vuole un milione di euro, dice il sindaco Nicola Barbieri in questi giorni anche lui alla BIT di Milano. Per questo il sindaco ha pronto un piano cosiddetto il piano B, un piano di riserva a trovare uno spazio per le compagnie teatrali del territorio. E Barbieri spiega è chiaro che ci rivolgeremo a bandi statali europei per finanziare l'opera. E poi dicevamo di queste sardine che avranno l'onore, quelle che si riuniranno a Pesaro il 20 di febbraio quando arriverà anche Matteo Salvini della Lega, avranno l'onore di conoscere Mattia Santori che sarà appunto a Pesaro giovedì 20. È l'uomo immagine del movimento Semila Sardini che farà tappa nella città pesarese proprio lo stesso giorno in cui è previsto l'arrivo del leader della Lega Matteo Salvini. Il leader sarà in Piazza del Popolo mentre il movimento in Piazzale Lazzarini. Io anticraxiano di famiglia ma ora serve a riconciliazione. Il sindaco Ricci intitola una via all'ex leader del Partito Socialista, militanti storici in rivolta. La strada collegherà Cattabriga a Vismara, previste intitolazioni anche per Nilde Iotti e Brancati ma qualcuno fa notare che manca Berlinguer. E su questa notizia lanciata dal sindaco di Pesaro di intitolare una via a Bettino Craxi ci sono le reazioni che non mancano e che dividono. Matteo Mercantini del PD dice l'impostazione del sindaco non mi è piaciuta, la figura di Bettino Craxi è troppo complessa, l'approccio è sbrigativo, era necessario un approfondimento preventivo, magari un convegno. Non so quanto avrebbe risolto le cose ma comunque come dire prima facciamo un convegno poi intitoliamo la via ma comunque. Condannato per due volte è una questione di legalità invece per Oriano Giovanelli che di Pesaro è stato il sindaco e aggiunge un comune dovrebbe esprimere e promuovere ben altri modelli. Non discuto il leader o le idee ma lasciamo le valutazioni politiche agli storici. È ora di intitolare una via Craxi, titola così invece il Corriere Adriatico, Ricci sdogana anche l'ultimo tabù, a Bettino la strada del Famila, a Nilde Iotti i Giardini del Mare e ad Antonio Brancati invece la nuova scuola. Una valanga di contrari commenta il suo annuncio su Facebook ma lui si difende, ho uno sguardo storico. I pro e contro, così il sindaco ha dimostrato obiettività e lungimiranza, chi è contro? Giovanelli dice non si può prescindere dal ricordare le condanne. E c'è un'altra persona che divide anche se lui giura che non è così, è Burioni, il virologo pesarese che tiene banco sui social ogni volta che dice qualche cosa, che si parli di Novax o che si parli di calcio. Il vaccino per il coronavirus dice senza colpi di fortuna serviranno degli anni, il virus qui non è così come non ci sono per strade leoni, quindi invita a non fare allarmismi. E poi aggiunge Burioni io non divido, dico la verità contro i folli. E noi ci fermiamo qui con la rassegna stampa, grazie come sempre per la vostra cortese attenzione, vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle 20.30 con il telegiornale Occhio alla Notizia. Se avete segnalazioni da farci, come sempre, questo è il numero da utilizzare per foto, video e messaggi. Grazie per averci seguito, buona giornata a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.